Il nostro obiettivo è smandellare la Baraccopoli, eliminare la Tendopoli perché riteniamo che sono due soluzioni molto molto provvisorie. Stato, regione, enti locali, forze dell'ordine e sigle sindacali scendono in campo per l'emergenza migranti. Stamani il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari ha convocato un tavolo tecnico per discutere sulla Baraccopoli e la Tendopoli di San Ferdinando, nonché sull'inserimento lavorativo e abitativo per i lavoratori stagionali. L'iniziativa che vede partecipare CGL, Cisle, Uile e USB, il sindacato di cui faceva parte Sumaila Sacò, il maliano ucciso a San Calogero, è finalizzata ad assicurare ottimali condizioni di vita ai migranti e avviare relazioni con gli imprenditori agricoli in nome dell'accoglienza e della legalità. Dobbiamo creare ulteriormente e fare sforzi ulteriori per addivenire ad una soluzione che non può che essere un'accoglienza diffusa, in cui tutti siamo chiamati a fornire risposte esaustive e precise. Ma i tempi dipendono dalle condizioni che gli enti locali, le organizzazioni datoriali, le organizzazioni agricole, la regione e tutti gli enti forniranno risposte rispetto a questo modello che noi abbiamo immaginato di accoglienza diffusa. Angela Panzera per la Cineus 24 Migliaia di massi pericolanti, sospesi, in bilico, senza reti o barriere che possano arrestarne la caduta, condizione che ha reso necessaria la chiusura al traffico dell'intera arteria. Una sorta di bomba ad orologeria fatta di macini che possono uccidere. Ecco come ha sintetizzato la situazione rilevata il capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi, insieme alla sua squadra sulla Ioppolo Coccorino, per valutare tempi e modi di intervento per la messa in sicurezza di quella che avrebbe dovuto essere la strada del mare, ma che ben presto si è trasformata in una trappola. Ho visto una situazione assurda. Abbiamo centinaia e migliaia di massi, blocchi di rocce sospesi, che da un momento all'altro, o per una pioggia di piccola entità, oppure una piccola scossa di terremoto, possono partire. Ad aggravare la situazione la costruzione di una galleria, un'opera inutile per la fruibilità dell'arteria, ma per il capo della protezione civile, solo necessaria ad alcune logiche. Anziché continuare, finire, ultimare gli interventi a monte, si è preferito, chissà per quali strani motivi, ma immagino ci sono interessi economici, di malaffare anche, realizzare questa galleria, che è all'inizio e che ha creato addirittura altre frane. Intanto la popolazione rumoreggia. Da mesi ormai si susseguono settini di proteste e mobilitazioni. Chiedono di uscire dall'isolamento che li ha messi letteralmente in ginocchio. Ma per la completa messa in sicurezza e la riapertura della strada del mare bisognerà attendere almeno altri dieci mesi. Chiaramente la strada non si può riaprire in queste condizioni, però è opportuno che immediatamente, da domani mattina, partano i lavori di progettazione e che magari, chissà, per la prossima stagione estiva si possa avere la strada in perfetta sicurezza. E dal Vibonese al Regino, il Turra di Carlo Tanzi e la sua squadra è proseguito fino a Palmi, dove due frane hanno fatto scattare l'allarme. Credo che nell'arco di un 10-15 giorni al massimo il sindaco di Palmi caricherà una ditta per mettere in sicurezza il vestente prima dell'inizio dell'estate. Poi sempre a Palmi c'è un'altra frane di minorità, su cui stiamo installando dei sensori collegati alla nostra sala operativa. Anche quando abbiamo un movimento inferiore al decimo di millimetro, arriva un'allerta sul nostro telefonino, su quello del sindaco e immediatamente si blocca la circolazione del traffico lungo la strada. Alessio Bonpasso per la Cinews24 Al momento siamo nella fase iniziale dell'analisi di reperti sui quali si sta cercando di determinare se vi sono residui dello sparo. Da giorni gli esperti del riso di Messina stanno analizzando i vestiti sequestrati e lo stub effettuato sulle mani e il volto di Antonio Pontoriero, il 43enne in carcere accusato dell'omicidio di Sumaila Sacò, il 30enne del Mali ucciso da un colpo di fucile a pallettoni, la sera del 2 giugno all'ex fornace La Tranquilla di San Calogero. Così come gli investigatori, anche il consulente tecnico Angelo Lamarca, nominato dall'avvocato Francesco Muzzo Pappa, sta monitorando gli accertamenti tecnico-scientifici. Ci vorranno almeno due mesi per sapere se sui reperti del RIS ci sono le cosiddette particelle unipoche, ossia pienamente compatibili con lo sparo, o indicative che potrebbero derivare dalla professione svolta dall'indagato. Gli accertamenti alla ricerca di eventuali residui dello sparo vanno coniugate con la circostanza che ancora, tra virgolette, l'arma del delitto non è stata ritrovata e che l'indagato fa all'agricoltore come attività professionale. Quindi è un'attività occupazionale in cui è verosimile l'utilizzo di concimi che contengano solfato di ammonio o comunque sostanze con basi azotate che possono dare delle positività rispetto alla presenza di particelle indicative, quindi binarie. Angela Panzera, per la CINUS24 Alzare i livelli di allerta e fare in modo che la criminalità non entri nell'apparato pubblico è quello che tornano a chiedere il mondo dell'associazionismo e i movimenti politici della nuova città corigliano-rossane della Sibaritide. L'uccisione del boss Portoraro e l'ipotesi che il movente dell'omicidio avvenuto una settimana fa a Villapiana Lido sia scaturito proprio dalla smania delle cosche a mettere le mani sui prossimi lavori della Statale 106 ha indignato le forze sociali del territorio che ora pretendono massima vigilanza da parte dello Stato. In questa zona ci sono cittadini che non hanno paura della criminalità organizzata che deve raccattare, come ha sempre fatto, i finanziamenti pubblici. Ci sono cittadini che hanno voglia di sviluppare questo territorio, di vederlo emergere e per farlo abbiamo bisogno che un'opera come questa sia uno strumento, sia dal punto di vista dell'infrastruttura di per sé ma anche uno strumento per immettere del capitale pulito, per far lavorare gente pulita, aziende pulite, che ci sono, che magari arrancano ma ci sono. L'Andrangheta vuole questi denari e i cittadini vogliono invece controllare la questione dello Stato sarà uno slogan ma siamo davvero noi quindi un pezzo importante è la formazione di una coscienza critica in questo caso una coscienza che è vigila da parte dei cittadini che sull'onda della fusione hanno deciso di non rimanere inermi e quindi con forza in un territorio che è stato scippato di un tribunale chiediamo di essere partecipi, soggetti assolutamente attivi insieme alla Chiesa, insieme ai sindacati, a tutti coloro che ci stanno nella valutazione dei percorsi. Marco Lefosse per la Cineus24 E' un'altra giornale, ho dato fiducia a Oliverio, giustamente. E' rimasto deluso o è soddisfatto? E' rimasto deluso veramente perché mi aspettavo un po' meglio. Già si parla del ritorno alla candidatura di Oliverio che io ritengo assolutamente da escludere. Secondo me dovrebbe essere già pronto a dare la dimissione per quello che si vede in Calabria. Ha fatto solo parole all'inizio quando si è insediato. Cosa ne pensa di questo governo regionale? Per me che ho fatto politica è stata una delusione completa perché c'è tanta di quella gente nella regione che non fa un cavolo dalla mattina alla sera. Lei aveva dato fiducia a Oliverio quindi? Sì certo, eravamo anche compagni di partito. Io ritengo che ci siano dei problemi per quanto riguarda per esempio l'abitare proprio il governo regionale visto che adesso l'Ater è a livello regionale e il Presidente Oliverio debba dare una spinta per quanto riguarda questo aspetto qua. Lei aveva dato fiducia ad Oliverio? No, ritengo che non è cambiato nulla. Come eravamo siamo. Il 106, la ferrovia, la sanità. Ogni giorno chi si sente in televisione che litigano Scura e Oliverio. Io non sono mai stato soddisfatto di nessun governo regionale. Si avvicendano le classi politiche di varia estrazione ma i risultati non cambiano nel turismo, nel commercio, nel terziario. Chi ha dato fiducia alle ultime elezioni regionali? A Oliverio. Ed è rimasto soddisfatto di quanto ha fatto? Per quello che sta facendo sì. Noi vorremmo chissà che cosa ma le risorse economiche sono quelle che sono e quindi non può andare più in là. Rossella Galati per la Cineus 24. A raccogliere i cocci di un PD andato in pezzi soprattutto nel mezzogiorno e nella stessa Calabria dove il Partito Democratico governa dal 2014 ci prova Andrea Orlando con l'associazione DEMS che ha in Carlo Gucciò nel suo riferimento più autorevole a livello locale. Sul tavolo una nuova proposta programmatica per riavvicinare la politica alle persone e l'idea di creare spazi per una nuova classe dirigente in grado di subentrare a quella responsabile degli ultimi fallimenti. L'ex ministro della giustizia ha partecipato ad un incontro ospitato a Rende al quale sono intervenuti anche altri esponenti del partito in seno a Palazzo Campanella. La partita del Consiglio regionale è aperta e la campagna elettorale è alle porte. In questa prospettiva DEMS mette in campo la propria proposta politica per rinvigorire un PD in grave affanno incapaci di porsi in discontinuità con il passato. Va ripensato il PD, va fatto con un congresso, bisogna dargli una nuova leadership e bisogna dargli delle nuove idee a partire da parole più chiare sul tema del mezzogiorno. Guardo sempre con grandissima attenzione al mezzogiorno perché penso che nessun progetto di Italia possa prescindere dalla riscossa e riscatto di questa parte del paese. Ma credo che anche queste elezioni ci digano che noi abbiamo un problema enorme di classi dirigenti, locali, oltre che di progetto nazionale. Ripensare il mezzogiorno non come un luogo dove riproporre una vecchia politica ma dare la possibilità a questo mezzogiorno di liberarsi da tutti gli interessi che lo vogliono tenere soggiogato al di là di chi governa. Molte giunte si sono succedute, diversi colori, ma in Calabria nel mezzogiorno hanno governato sempre gli stessi interessi. Salvatore Bruno per la CNews24 Ampliare il raggio d'azione della commissione antindrangheta Questo è l'obiettivo che si è posto il presidente dell'organismo Arturo Bova che ha depositato negli scorsi giorni una proposta di legge per inserire tra i compiti della commissione anche la lotta alla corruzione. Rifacendosi alle modifiche recenti al codice antimafia che sono state illustrate a commissari da uno degli estensori, l'ex deputato del PD Davide Mattiello che Bova ha interpellato per avere autorevole conferma della bontà della strada intrapresa. Ritengo che potrà dare conforto a quello che sostengo io di banare ogni dubbio e ad accelerare i tempi. Faccio un esempio, altrimenti io non potrò convocare una commissione, ad esempio, su vicende SACAL, vicende ANAS, una serie di vicende che attengono alla pubblica amministrazione ma che ahimè sappiamo poi costituiscono l'antefatto o l'anticamera di altre vicende. Mattiello è convinto che l'estensione alla corruzione degli strumenti di lotta alla criminalità sia indispensabile ed esclude il rischio di un eccesso di repressione. Fatta la norma non è mai concluso lo sforzo. Ecco perché bisogna dibattere, bisogna comprendersi, bisogna continuare a dialogare tra pubblica amministrazione, politica, magistratura, proprio perché le norme vanno fatte vivere, non basta scriverle. Detto ciò serve e come questa estensione perché questa estensione è figlia di una comprensione, la comprensione che sempre più spesso le organizzazioni mafiose penetrano nell'organizzazione economica, amministrativa, sociale attraverso la corruzione. Riccardo Tripepi per la CNews24. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha azzerato la giunta. Questo cambio di rotta si è reso necessario per rilanciare l'azione politico-amministrativa a favore della cittadinanza, così come indica il decreto sindacale dell'11 giugno. Dunque, a due anni dall'insediamento, il primo cittadino ha deciso di rimescolare le carte e dare vita a un nuovo percorso. I nuovi assessori saranno decisi e comunicati nelle prossime ore. Sotto i riflettori, al momento, sarebbero tre gli assessorati prossimi al rimpasto. Quello ai lavori pubblici, guidato fino ad oggi da Tommaso Sinopoli, che dovrebbe essere affidato a Leopiedace, ex presidente di Crotone Sviluppo, società in house del comune, che dovrebbe essere presiduta da Gianfranco Turino, membro di missionario dello staff di Pugliese. Il nuovo assessore alla cultura dovrebbe essere il consigliere comunale Franco Pesce, al posto di Antonella Cosentino, la quale perderebbe anche la carica di vice sindaco, destinata all'assessore al bilancio Benedetto Proto. In ultimo, l'assessorato al verde pubblico, che dovrebbe essere affidato alla consigliera comunale Valentina Caldieri, al posto della collega di Laboratorio Crotone, Caterina Caccavari. Infine, quattro assessori dovrebbero mantenere le deleghe, e si tratta di Salvatore Di Luca all'urbanistica, Giuseppe Frisenda allo sport, Alessia Romano alle politiche sociali e Sabrina Gentile alle attività produttive. L'operato di questi ultimi tre, però, sarebbe sotto osservazione da parte della coalizione politica. Giuseppe Laratta per la Cinews24. Iniziamo il percorso il 6 settembre con la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati che prevedevano la liquidazione di quelle spettanze. Noi vogliamo essere retribuiti per il lavoro prestato che dà diritto ad un salario accessorio. Dopo lo stato di agitazione, lo sciopero. Hanno incrociato le braccia per due ore i dipendenti del comune di Lamezza Eterme guidati nella loro protesta dei sindacati Will e Dicap. I lavoratori lamentano il mancato pagamento di circa 1.800.000 euro di salari accessori. Dal 2013, secondo una stima sommaria, ogni dipendente avrebbe dovuto avere 2.000 euro che non gli sono stati dati. I lavoratori continuano a prestare attività che danno diritto al salario accessorio che deve essere contrattato e di conseguenza si sta prestando salario accessorio in maniera del tutto impropria. Dal 2013, secondo una stima sommaria, ogni dipendente avrebbe dovuto avere ogni anno 2.000 euro che non gli sono stati mai dati. E nonostante lo sciopero fosse stato annunciato con ampio anticipo, nessun componente della triade commissariale si è fatto trovare in loco, preferendo andare alla cerimonia dell'offerta del cerovotivo a Sant'Antonio. C'è stato l'assoluto silenzio e l'assoluta indifferenza. Questo è inaccettabile perché è rispettoso e riguardoso dei principi elementari delle relazioni sindacali. Probabilmente bisogna guardare i fondi, il fondo certificato, che praticamente c'è qualche problema. Tiziano Abagnato per la CNews 24. Devo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a rispettare attraverso le regole anche questo bel risultato che abbiamo raggiunto del 65%, sono i dati del mese di maggio che ci ha permesso di prendere sicuramente i tre premi, ma soprattutto di portare avanti questo sistema dei rifiuti lato, che come sapete sicuramente sono stati appaltati gli impianti tecnologici alli per oltre 60 milioni di euro e credo che a Catanzaro appena verranno consegnati questi impianti non avranno più problema dei rifiuti per i prossimi 100 anni. Nel mese di maggio a Catanzaro sono stati raccolti in maniera differenziata il 65,29% dei rifiuti. È il dato emerso nel corso della conferenza stampa sui risultati della raccolta differenziata Palazzo De Nobili a due anni dall'accordo siglato con il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. Qui a Catanzaro è stato fatto uno splendido lavoro e tra l'altro in un arco temporale molto ridotto perché la città è decisamente una città pulita. Nell'ambito del meridione che sappiamo tutti che spesso non performa in maniera eccellente nell'ambito ambientale questa è una realtà che è meritevole di ogni attenzione. Dunque numeri importanti anche per l'assessore al ramo Domenico Cavallaro ma è necessario proseguire con forza e determinazione per fare sempre di più cercando di raggiungere entro il 2018 il 70%. Tra qualche mese verranno realizzate le impianti di videosorveglianza per tutta la città di Catanzaro proprio ieri abbiamo avuto una riunione in prefettura tra il mese di settembre e ottobre potremmo cominciare ad avere le prime telecamere. Rostella Galati per la CNews24 Tutti i tifosi del Cosenza vogliono raggiungere Pescara per seguire la finalissima contro il Siena che vale la promozione in Serie B ma la trasferta si presenta come una corsa d'ostacoli l'insidia maggiore rappresentata dalla capienza limitata dello stadio adriatico appena 20.000 posti 20.000 come il numero dei sostenitori presenti sugli spalti del San Vito Marulla domenica scorsa la prevendita ad appena 4 giorni dalla partita ancora non è cominciata il servizio è affidato all'East Ticket l'acquisto online è bloccato mentre l'unico punto vendita della città il bar Bruni di Viale Cosmai dispone di un numero limitato di tagliandi circa 400 di gran lunga è inferiore alla richiesta ed è in attesa del via libera per procedere alla vendita chi ha tempo e voglia si è già messo in fila senza sapere quando sarà possibile comprare il biglietto siete qui per comprare il biglietto però non è possibile ancora? no ancora non è aperta la vendita purtroppo perché non hanno ancora disponibilità dei biglietti andrete in trasferta in pullman? 9 posti il pulmino 9 posti ma come sarebbe andato saremmo andati anche in bici per vedere questa magica partita che ci regalerà tante emozioni noi andiamo fino alla fine a pescare a giocarcela tutti forza lupi siamo grindosi di partire ci sono inoltre difficoltà nel Veperive Pullman l'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi verrà pensato anche ad un treno speciale ipotesi subito scartata per i costi esorbitanti e per i problemi di sicurezza c'è anche l'idea di allistire un maxischermo nello stadio per consentire ai tifosi che dovessero essere impossibilitati a seguire la squadra in trasferta di assistere insieme al match ma bisognerà fare i conti con le pessime condizioni climatiche previste per sabato sera Salvatore Bruno per la Cineus 24 il motore è ufficialmente ripartito come il nuovo corso della Tomocallipo Calabria che dopo aver dato il benvenuto al nuovo direttore sportivo Nini De Nicolo riabbraccia Nico Agricola l'uomo che ha scritto pagine importanti del club giallorosso e che oggi ritorna alla base con l'obiettivo di riorganizzare e potenziare il settore giovanile ed affiancare il DS nella costruzione della prima squadra è una bella sfida spero di fare il mio lavoro bene e chiaramente adesso mi sto guardando un po' intorno per cercare di capire come impostare la stagione e soprattutto cercare quelle forze quegli input importanti per partire bene spero di trovare un ambiente entusiasta del mio ritorno e con molta umiltà con molta attenzione cercherò di svolgere il mio lavoro cercando appunto di mettere radici nel settore giovanile e cercare di dare uno sprint notevole Intanto a Vibo starebbe per sbarcare il palleggiatore croato Zimafey Zoukowski ex Civitanova a confermare l'indiscrezione lo stesso giocatore al quale la Callipo dovrebbe affidare la cabina di regia del nuovo gruppo targato 2018-2019 Alessio Bonpasso per la Cineus 24 Queste ragazze che abbiamo preso diciamo tutte nuove devono essere motivate ad avere ambizioni per raggiungere obiettivi insieme ad un allenatore che vuole ritornare ad essere il grande allenatore del passato ci sono tutti gli elementi per fare di sicuro un grande campionato Campionato nuovo squadra nuova la volley soverato del presidente Antonio Matozzo scenderà in campo per il nono campionato di A2 femminile per la squadra ionica con 12 nuove giocatrici e un nuovo allenatore Bruno Napolitano nato a Napoli ma calabrese d'adozione che porterà a soverato una grande esperienza avendo allenato diverse squadre di A2 e A1 Noi abbiamo iniziato con questo nuovo allenatore di cui sono orgogliosissimo perché è di Catanzaro abbiamo lo stesso entusiasmo la stessa cattiveria sportiva Intanto sono già state annunciate le prime nuove giocatrici biancorosse Abbiamo fatto già quasi tutti gli acquisti quattro li abbiamo già annunciati alla Lega Volli una di queste è la nazionale Under 23 la Baldone che è il palleggiatore di un metro 87 giovanissima di 20 anni la Tanase che è un attaccante giovanissima nazionale Under 18 il nuovo libero che è la Napodano che è il secondo libero di Pomica Salmaggiore Dunque nomi importanti con i quali Matozzo è pronto a lavorare per raggiungere l'obiettivo la serie A1 Quest'anno facciamo di tutto per andare direttamente in A1 non voglio fare i playoff perché non ci portano sicuramente molta fortuna li ho fatti tante volte li ho perso sempre tutto dipende da come noi riusciamo ad assemblare questa squadra e dare le giuste motivazioni per raggiungere l'obiettivo Rossella Galati per la CNews24 visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la CNews24 edizione giorno alle 14 e 15 ed edizione sera alle 20 e 30 la CNews24 la Calabria che fa notizia che fa notizia